Ecco qua il vostro caffè. Quanto zucchero? Amaro, come la vita amica. Ma vostro? Hai visto avere amici? Perché? Che fai successe? È anche una famiglia dominante. Mio zio è gay. Mio cugino è gay. E io sono di stamattina che pure mia nipota è gay. E va buona cosa fare, ma almeno in famiglia c'è uno che ci piace di film. Come? A mio sorella.